Foresta magma scuro, riusciremo a completarla oggi? Scopriamoli insieme, bentornati miei ombre su Super Mario Bros. Wonder! Allora, prima di proseguire vi faccio vedere solamente che sono riuscito ad ottenere il seme Wonder qua, in... ondeggiando tra i tunnel di lava, ma in realtà avevamo già visto dove era, bisognava semplicemente colpire al momento giusto... vabbè, il blocco, ma ok, non è stato nemmeno troppo interessante a dir la verità quel frangente con il Fairy Wonder, quindi pazienza se non lo abbiamo visto insieme. In ogni caso, ripartiamo e andiamo avanti con gli antichi ricordi dei dragoni fossili. Anche qua abbiamo un livello a quattro stelle, quindi... Bene, potrebbe essere un bel inizio, oppure un inizio disastroso. Let's go! Ho sempre detenuto questa spilla qui, quindi continuerò a farlo. Ora, cerchiamo di scendere qui nel mezzo, non mi sembra una cosa così complicata, ma aspettiamo a dirlo. Ok, via subito. Non so se è quello lì, mi fa male, se mi colpisce probabilmente sì, quindi evitiamo di provarci. Ok. Vedete che là su c'è qualcosa? Aspetta. Lì penso ci sia qualcosa decisamente, però ho paura che magari entrando di là poi io non posso più andare di qua. Quindi prima controlliamo qua. Vediamo. Potrebbe anche esserci un semesegreto. Oppure un getto di viola. Perfetto. Se c'è una cosa che ho capito è che quando si trova qualcosa di, diciamo, segreto, prima è meglio andare lì, e poi andare nella strada tradizionale. Immagino che quel tubo blu di prima ci riportava semplicemente qua. Direi proprio di sì. Allora. Oh. Ma tocca la lava? No. No, però devo saltare, chiaramente. Sì, questi fanno male. È ovvio, se no. Non li avrebbero messi lì, vero? Oddio. Ci sono le nuvolacce anche qua giù. Allora, insieme a Wonder c'è sempre, va bene. Controllo per sicurezza. Via, 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 via. Dovevo rimanere sopra. Torni su. Bravissimo. E direi che rimaniamo anche qua su. Qui ci potrebbe essere qualcosa di interessante. Non troppo. Beh. Adesso dobbiamo solamente guardarci. dal prendere e dal trovare, più che altro, il fiore Wonder. Manca solo quello. Quasi, quasi. Sapete che vi dico? Faccio così. Non è troppo rischioso, dai. Me lo posso concedere. Ok. Checkpoint. Almeno abbiamo salvato i nostri progressi. Via. Via. Qui potrebbe esserci il seme. Il fiore e il seme. Fiore. Oh mio Dio. Ho preso un colpo. Ah, è un drago. Ah, è bellissimo. Oddio. No, giusto, è vero. Quelle grandi non si possono colpire così. non impazziamo con le monete, però, quelle che posso. Avanti. Oh. Oddio. Ho capito che mi vuoi aiutare, ma così metti in difficoltà. Ma vai dritto, no? Nel senso. cosa farlo? oddio. Oddio. Siiii. Ma, Zelda, sei tu? Ah no. Cross-over, incredibile. Via Yeah Dai, chiudiamo in bellezza Arriviamo in fondo, prendiamo la bandiera Così andiamo alla grande Yeah Dai, first try Siamo riusciti a completarlo subito Ok, sono un ciampicato Sì Però, concedetemelo Non è andata così male, direi Sinceramente non era Troppo difficile questo No, direi di no Let's go Boom Controlliamo 100%, perfetto E ora sblocchiamo Una nuova spilla Pro Cioè, sblocchiamo Sblocchiamo la sfida Poi la spilla la prenderemo Sì Supercorsa 2 Ok La supercorsa No, in realtà le spille pro Non le abbiamo mai usate neanche una Quindi non solo supercorsa Però ci sta Sì, ma Ma non ho Letteralmente non ho il tempo Di guardarmi intorno Cioè, non posso fare niente Perché Continuo ad andare avanti e indietro Non capisco se ci si va dopo lì O se è una cosa che devo fare tipo adesso Ah, ok Esatto No Ok Si vede che non sono abituato E che non l'ho praticamente mai No, praticamente Non l'ho mai usata Oh Eh no, quello devo prendere Quindi Ok Allora No Per pochissimo Parola tecnica è buona Peccato per l'esecuzione Mi viene sempre da saltare Ok Ci siamo Quanto odio sta cosa Della corsa Anche perché Non ti puoi fermare Neanche se c'è Per dire No Con la culata Non ci si può fermare Credo Oddio Mh Meno male Non si perdono le vite Guarda ragazzi Se no Nelle sfide spilla Ci avrei Letteralmente Lasciato Credo che là C'era Il gettone No È qui Ah Sì Grazie 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 mille Gioco Gentilissimo Non penso Di poterci arrivare Direi che è fatto apposta Vabbè Amen So che è lì E la prenderò Non vi preoccupate Adesso qui abbiamo anche perso Troppo tempo Sinceramente Non ho fatto il conto Di quante volte sono caduto Ma parecchie Decisamente Allora Diciamo La cosa che mi interessa di più Sono i semi Però quella non è una scusa Per non prendere i gettoni L'ho visto tardi In cima Quando ormai ero già saltato No Non mi piace usare quella spilla Ma neanche un po' Spilla spilla però Invisibilità 2 Ci stanno facendo fare Tutte le spilla A livello 2 Ok Che bello Abbiamo anche il castello Da sbloccare su Sta cosa anche dell'invisibilità Non mi fa impazzire Oh Ok Impossibile capire Quando schiacciare Il tasto per Spingersi in alto Molto difficile Più che impossibile Dai Ah Che infamoni Che sono Va bene Questo l'avevo già preso Queste spille pro Non hanno veramente Senso di esistere Se non Di farti sclerare E basta Non c'è altro motivo Perché tanto Durante i livelli Ma chi è così pazzo Di andare a usare Una cosa del genere Che anziché Darti una mano Ti complica la vita E basta Queste sono state Queste sono state messe Solo ed esclusivamente Per farti sclerare Fidatevi Ok Almeno il checkpoint Così Tanto che adesso Creperemo ancora un po' di volte Sicuro Allora Dobbiamo andare a prendere La nuvoletta Vero Dalla Kitu Se riesco a saltarci sopra Cosa non semplice Quando sei invisibili Bene Allora Cosa che manca Una moneta E basta Perché poi il seme wonder E il fiore wonder Non ci sono E la moneta è qua Ok Onesto Vai 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 Bene Troppo difficile Non era anche in questo caso Però Va bene Mamma mia Quanto odio L'invisibilità La corsa Quanto odio Tutte le spille Le spille Le spille pro Le odio tutte Che ci volete fare? Giù No La cosa bella Ce n'è un'altra Molla due Ma perché hanno messo Tutte queste Spille pro Tra l'altro Consecutive Sta zona è un massacro Da questo punto di vista Che bello Anche qui Quasi Ok Almeno il primo ostacolo Lo abbiamo superato E dai Secondo me Senza rincorsa Qua è impossibile Temo Mamma mia Ma queste sfide Secondo me Le potevano tranquillamente Risparmiare E risparmiarcele Ah Mamma mia Ok Ok What? No Aiuto Non sarà semplice Saltare Letteralmente Su uno spazzettino Così Piccolo E ristretto Ok Mamma mia Mamma mia Mamma mia Basta Sfide Spilla Vi prego Troppe Di fila Sono provato Mi metto una dura prova Provato Prova Di nuovo Principe No Mondo speciale Ok Se non altro Abbiamo sbloccato questo Ecco a cosa servivano Tutte queste sfide Spilla Pro Very good Non vedo l'ora di sclerare In questi livelli qua Ma Fortunatamente Possiamo rimandare Al momento Allora Credo che abbiamo Completato tutti i livelli Della zona Eccetto il castello Ora Controllerò per benino Anziché prendere la scorciatoia No Prendiamo la scorciatoia Tanto non c'è più nulla Qua li abbiamo fatti tutti Già fatto Lì siamo arrivati Ok Andiamo È arrivato il momento Ma quindi Questa No non è la zona finale No 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 Cioè è l'ultima zona Ma Qui per me ci sarà ancora Bowser Jr Bowser È un castello Letteralmente non può essere qua dentro E di conseguenza Ci sarà Certamente Un altro livello Il castello della foresta Magma scuro Let's go Quattro stelle di nuovo Spilla teniamo questa Che va benissimo Almeno credo Cioè mi piace Più che va benissimo Se va bene o no Non lo so Ma andiamo Cerchiamo di non perdere subito Il power up Shadow Mi raccomando E soprattutto Cerchiamo di trovare Tutto quello che È necessario Per completare Il livello al 100% Bello qui Ah Va bene Va bene Va bene Quasi quasi Stavo per dire Magari è una cosa stupida Perché c'era qualcosa di utile E io così L'oggetto letteralmente via Ma Per quanto pare no Perché però Mi hanno messo Il vasettino lì con l'acqua Qual è la motivazione Ah forse Vabbè Si potevano Spegnere Queste fiammelle Ma tanto Le distruggiamo comunque Nessun problema Allora Problemi? Oddio Io me lo porto dietro Sapete Non so Mi fa sentire bene Lianciamoli sui tartos Così Senza motivo A caso E ora tornano in vita Ok Grazie Trottola Oh Allora Beh Ci manca Ci manca Un solo gettone Il che non è male In realtà Mmm Fiore wonderly Perché ho questa impressione Credo di avere solamente un tentativo Non ci sono più vasi Sì Mario gelatina Però però Devo uscire Esatto Via Oddio Rimano appiccicato dappertutto Perfetto Oh no Sono stato stupido Bastava andare avanti Però lo volevo sconfiggere Perché era lì che mi Non lo so Dava fastidio Il fatto sul collo Va bene Va bene Allora Riproviamo Questi sono sempre carichi d'acqua Sì Guardalo Allora lei Mamma mia Che skill Ragazzi Via Non ho più La bolla Però adesso Pi 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 Mario gelatina Mi fa ridere Tutto bene? Aspetta cosa possiamo fare? Ah giusto ma Esatto Chiaramente Non posso Afferrare i vasi Da gelatina Forse romperli Sì romperli sì Ok Allora Teniamo gli occhi aperti Per l'eventuale gettone Anche se secondo me Sarà dopo Però E invece qui Perfetto Perché ho sto zitto Allora credo che io Deba andare dentro Rischiando un po' La vita Esatto Perché sta cacchio di ruota Ci arriva a pelo Che poi Non so se è necessario Entrarci Nella ruota Perché No infatti basta Tipo star qui Per prendere il gettone Vabbè Non fa niente Ok Così direi che può andare Salve Allora Questo No peccato Ti volevo far secco Ma Non ce l'ho fatta Lì a destra Non penso ci sia roba Spero Gettone Gettone preso Quindi arriviamo in fondo In tutta scioltezza Senza scioglierci però Eccoci qua No Bene Ma che succede Let's go Andiamo Allora Va bene C'è lo scontro finale Che magari uno dice Intendo alla fine dei castelli Potrebbe non essere così semplice Ma Non è che sia Questo complicato Ho trovato i castelli Anche quelli a 4 stelle Sempre abbastanza Sempliciotti Non ci sono Skill Tanto facendo a caso Viene sempre Viene sempre il fungo Ormai lo avrete capito Quante volte ci ho provato Troppe Sì Non richiedono Chissà quale skill Questi castelli Però Va bene Sono stufo di giocare con voi Mi interessa molto di più L'enorme meraviglia Del mio paparino Quindi vedete di starvene Alla larga da lui Ti spacco Allora vediamo cosa fa Se fa qualcosa di nuovo Vabbè Magari durante la trasformazione Adesso No Mi sembra sempre lo stesso Ok In realtà Scossettina Si è velocizzato un po' Probabilmente potrò colpirlo Vero adesso Ok Via In genere quanti colpi sono Non mi ricordo neanche Molte 3 All'inizio Poi 4 Vabbè Comunque Oddio Ah si spostano queste Ok Se richiudi gli occhi Si spostano Peccato Shadow C'è provato Ok Io farei così Giusto per essere sicuri Oddio Si è moltiplicato Tecnicamente la moltiplicazione del corpo Dai però Durante le boss fight Da quello che ho visto Non danno Non danno nulla Alcun power up E niente Beh te lo danno prima di entrare in battaglia Quindi direi che Ci può stare Se no poi sarebbe troppo facile Superfluo dire che non vedo nulla Se non quando Mi stanno per cadere addosso Oh L'ho visto Sì all'ultimo però La mia intenzione non era quella di colpirlo all'inizio E mo? Papà Questo signori miei E' l'ultimo seme supremo E mo si sbloccherà Il livello finale dai Su Bowser Sarà così Vedrete Oppure no E così i nostri eroi Hanno salvato la foresta Magma scuro Recuperato l'ultimo seme supremo Si avvicina all'ora Della resa dei conti Riusciranno a fermare i malvagi Piani di Bowser E a salvare il regno dei fiori? Penso di sì Spero di sì Che tensione Uh che tensione Beh In maggio ci sarà una cutscene Bella Bella potente Ottimo Vediamo se arriva il messaggio che abbiamo preso tutti i semi supremi Di semi meraviglia sì Della zona Perfetto E ora di tornare all'arcipelago dei fiori Qui il caldo è insopportabile Andiamo E stiamo attenti a non scottarci Beh Con questa piattaforma direi che Scottarsi non è così Semplice Ok Arcipelago dei fiori Vediamo un po' Si sblocca Scorciatore Si è già sbloccata Ok E ora Bowser Via L'ultima pianta piragna Che poi Pianta piragna Beh non lo è proprio Però ok Smog pianta piragna Si ce l'abbiamo fatta Ora andiamo da Bowser Andiamo da Bowser Che cos'è Non mi piace per niente Ne ci credo Troppo tardi Ho appena terminato i preparativi Per la mia enorme meraviglia Morite dalla voglia di scoprire Cos'ho in serbo per voi Vero? Dato che sono un tipo generoso Vi darò una piccola anticipazione Non dovete far altro che trovare il coraggio di arrivare al mio castello E che non si sapeva? Eccolo lì Ci apre addirittura la via Questa proprio non me l'aspettavo Io sì Bowser sembra molto sicuro di sé Come se non avessimo più possibilità di sconfiggerlo Ma io credo che possiamo ancora farcela Forza e coraggio Andiamo al castello Allora Controllo qui ma Non c'è altro Abbiamo il mondo speciale Ma quella è una cosa che faremo poi Io direi che ci possiamo fermare qua E tenerci L'ultima parte L'ultimo livello della storia Immagino Per il prossimo episodio L'ultimo L'ultimo della storia Possibile Wonder Super Wonder Bowser Wonder Wonder Bowser